Buongiorno a tutti, sono Simone Scarpari dell'Ufficio Marketing di SAEF e vi do il benvenuto al nostro webinar Sicurezza sul lavoro, aggiornamenti e novità per il 2022. Sono qui in compagnia dei nostri relatori di oggi, Marco Mondini, membro dell'Ufficio Studi di SAEF e il dottore Gian Maria Foroni, responsabile commerciale area sicurezza. L'obiettivo del webinar di oggi è quello di fornirvi un aggiornamento riguardo le principali novità che interessano le aziende per il 2022, ovviamente aiutandovi a fare chiarezza. Prima di passare la parola ai nostri esperti, due piccoli accorgimenti sull'utilizzo della piattaforma. Allora, innanzitutto questione e domande. L'esposizione dei nostri relatori sarà sostanzialmente libera e senza interruzioni, il che vuol dire che per le domande vi chiedo la gentilezza di porle nell'apposita chat del pannello di controllo sotto appunto la sezione domande alla terz'ultima voce. Sarà infatti mia premura raccoglierle e al termine dell'esposizione dei nostri relatori girarle agli stessi che vi forniranno le opportune risposte. Il webinar inoltre sarà registrato e sarà la nostra premura ulteriormente girare la registrazione tramite mail. Non perdiamo altro tempo, cedo la parola ai nostri relatori partendo da Marco e vi auguro una buona continuazione. Buongiorno a tutti. Allora, oggi cercheremo di concentrare il nostro webinar su quattro temi principali che riguardano le novità che interessano l'anno 2022 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Partendo dai decreti che andranno ad abrogare il famosissimo DM 10 marzo 98 il quale prevede la gestione dell'emergenza sia per la valutazione dei rischi del problema dell'emergenza, decreti che sono stati emanati e pubblicati in gazzetta ufficiale settembre 2021 che però entreranno in vigore a ottobre 2022. Per poi andare a rivedere un attimo le modifiche del testo unico della sicurezza del decreto 81 con le modifiche introdotte a dicembre 2021 con il decreto 146 e andremo ad accennare alcuni aspetti che riguardano gli aggiornamenti per l'anno 2022 legati al rischio chimico e cancerogeno. A seguito inoltre della pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del 24 marzo in materia di emergenza covid andremo ad illustrarvi quali sono le modifiche e gli adeguamenti in vigore a partire dal primo aprile 2022 quindi a partire da domani. I temi sono molti direi di iniziare con la parte che riguarda la gestione e sicurezza dell'incendio. Parliamo di tre decreti come accennavo prima che sono stati emanati il primo settembre 2021, il 2 settembre 2021 e il 3 settembre 2021. Tre decreti che si collegano in maniera diretta all'articolo 46 del decreto 8108 per questo motivo anche tutti gli oneri sanzionabili fanno capo al decreto numero 81. Tre decreti che sostituiscono un unico decreto il DM 10 marzo 1998, tre decreti per tre casistiche e per tre disposizioni diverse. Abbiamo il decreto del primo settembre che riguarda in maniera chiara e specifica il controllo e la manutenzione, 2 settembre gestione dell'emergenza e 3 settembre l'adozione delle misure per la riduzione dei rischi tra cui anche la valutazione del rischio incendio. Come accennavo prima l'entrata in vigore di questi decreti è di un anno dalla data di pubblicazione quindi parliamo di ottobre 2022. Diciamo che avendo un anno di tempo questo anno settembre 2021 ottobre 2022 permette all'azienda di adottare tutte quelle misure necessarie per adeguarsi. Il decreto primo settembre come si accennava parla della gestione delle manutenzioni dei controlli delle verifiche periodiche ha portato non molte modifiche in quanto le integrazioni fatte in maniera esplicita nel decreto fino ad oggi erano già in vigore per mezzo delle normative uni che sono norme di carattere di carattere volontario seppur citate dal medesimo decreto 81 in quanto vanno rispondere alla regola dell'arte. Il fatto che siano state introdotte in un decreto ministeriale comporta il fatto che queste norme i contenuti delle norme e le misure da adottare possono essere direttamente direttamente sanzionabili. Quindi il decreto primo settembre parla principalmente dei controlli periodici della manutenzione e della sorveglianza. Per quanto riguarda i controlli periodici e la manutenzione di particolari novità non sono previste perché tali controlli vengono generalmente svolti da aziende terze specializzate vedersi ad esempio i controlli semestrali per i mezzi estinguenti come ad esempio gli istintori nelle manichette e devono rispondere a determinate norme tecniche specifiche o prevedere un registro di manutenzione correttamente stilato e mantenuto seguendo l'indicazione del fabbricante mediante il manuale d'uso e manutenzione. Per quanto riguarda la manutenzione con l'obiettivo di mantenere in efficienza e in buono stato gli apparecchi si collega agli aspetti normativi e al manuale d'uso e manutenzione una novità non indifferente riguarda invece la sorveglianza. Che cos'è innanzitutto la sorveglianza? La sorveglianza è quell'insieme di controlli visivi quindi non prevedono delle competenze tecniche specifiche mirate e dettagliate del prodotto che si va a controllare ma si tratta solo di controlli visivi atti a verificare nel tempo la specifica è che i controlli di sorveglianza devono essere intramezzo a due controlli periodici ciò cosa vuol dire? Che il controllo semestrale degli estintori deve essere supportato anche da un controllo indicativamente trimestrale da una sorveglianza trimestrale da parte del datore di lavoro. Quindi la sorveglianza sull'insieme di controlli visivi atti a verificare nel tempo che intercorta due controlli periodici che gli impianti di attrazzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. Come si è potuto leggere e ascoltare la sorveglianza riguarda la verifica visiva delle normali condizioni, ad esempio per l'estintore possiamo dire che i controlli sono mirati a verificare che siano facilmente accessibili, che siano facilmente visibili, che sia presente il cartello, che il manometro indicante la carica sia sempre nello spazio verde e non in quello rosso. Ciò comporta semplicemente una verifica e un monitoraggio che gli stessi siano sempre agibili e utilizzabili. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati. Ciò comporta la predisposizione e la formalizzazione di un registro di controlli anche per quanto riguarda la sorveglianza interna. Il decreto del 2 settembre riguarda il piano di evacuazione, il piano di emergenza e riporta indicazioni specifiche sulle procedure per la gestione della sicurezza antincendio, sia in esercizio che in emergenza, vengono distinte queste due casistiche, i contenuti dell'informazione e della formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti al servizio antincendio, hanno semplicemente cambiato nome addetti al servizio antincendio, il programma di corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, il programma di corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi e requisiti dei docenti. In particolare quest'ultimo punto è una novità assoluta in quanto fino ad oggi non erano previsti dei requisiti minimi per i quali i docenti devono avere per poter fare un corso antincendio. Se le entrate in vigore del presente decreto 4 ottobre 2022 sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività formative o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dalle entrate in vigore del decreto stesso. Questi 5 anni sono un'altra novità assoluta, ovvero a oggi l'aggiornamento del corso antincendio era previsto esclusivamente dal datore di lavoro nel documento di votazione dei rischi, esisteva una circolare di vigili del fuoco delle miglia che prevedevano un consiglio di aggiornamento triennale, con questo decreto l'aggiornamento è quinquennale per tutti. Il numero complessivo di personale disegnato alla gestione delle emergenze deve essere congruo in relazione alle turnazioni e all'assenza prevedibili. Un concetto che già veniva citato e riportato nel decreto 81, il fatto di essere congruo sta a significare che in ogni momento almeno un addetto all'emergenza antincendio deve essere presente in azienda, presente in azienda ma soprattutto anche in relazione ai turni e all'assenza prevedibili. Il decreto 81 parla sempre di squadra, il decreto 2 settembre 2021 pone dei paletti, non impone un numero rigido minimo di addetti ma devono essere sempre presenti in relazione sia al processo che i turni prevedibili. Queste principali novità cosa portano sicuramente ad un aggiornamento del piano di emergenza, del piano di evacuazione che deve essere allineato con i nuovi principi previsti dal decreto. Le novità legate ai corsi di formazione interessano prevalentemente i partecipanti e gli enti organizzatori, tuttavia hanno inserito per fortuna per il rischio basso l'esercitazione pratica, quindi in passato il corso di formazione di 4 ore per il rischio basso prevedeva solo una parte teorica, hanno inserito giustamente che anche ad esempio in un ufficio gli addetti debbano saper usare un estintore. Per quanto riguarda il rischio medio hanno aggiunto gli approfondimenti sui controlli e la manutenzione e sulla pianificazione dell'emergenza con relativo registro e il rischio alto che ricordiamo rischio alto esame deve essere svolto presso i vigili del fuoco. Tra gli argomenti che devono essere trattati si parla anche di ATEX che non sono altro che le atmosfere esplosive, il registro antincendio e le esercitazioni che devono essere svolte durante l'anno. Ricordiamo e anche il decreto 2 settembre l'ha confermato, i luoghi di lavori, i datori di lavoro devono prevedere almeno una prova di evacuazione antincendio e una prova di emergenza all'anno. Il decreto 3 settembre cambia argomento e si va a parlare di valutazione dei rischi. Valutazione dei rischi intesa come quelle misure, quei criteri intese a evitare l'insorgio di un incendio e a limitare le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio. Tutto in linea con il decreto 81 che parla sempre di misure di prevenzione in primis e di protezione successivamente. Non è applicabile per i cantieri temporanei e mobili in quanto vige la normativa specifica titolo quarto cantieri. Ciò cosa comporta sicuramente l'aggiornamento della valutazione del rischio incendio presente in ogni azienda. L'aggiornamento sia della valutazione dei rischi incendio che dei corsi che del piano di emergenza è un annempimento obbligatorio in quanto ci sono state delle modifiche seppur non strettamente sostanziali nei decreti. Il decreto 10 marzo 98 attualmente in vigore è stato abrogato quindi una valutazione dei rischi che fa riferimento a un decreto abrogato vuol dire che il documento non è reale, che il documento è sanzionabile. Il tema sanzioni viene citato e riportato in maniera chiara e specifica nell'aggiornamento al decreto 81 con il decreto del 21 ottobre 2021 numero 146 convertito poi in legge a dicembre il quale pur riportando misure urgenti in materia economica e fiscale riportano all'articolo 13 una serie di novità importanti molto più impattanti sulle aziende rispetto alla parte antincendio. Quindi ho riassunto in pochi punti gli aspetti principali tra i quali hanno aggiunto gli organi di vigilanza. Quindi se ad oggi l'organo principale che può vigilare e controllare le aziende in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è ATS dal 2022 il ruolo che ha l'Ispettorato nazionale del lavoro è un ruolo molto più pratico, molto più attivo sul territorio tant'è che avrete visto anche sulle testate giornalistiche che hanno indetto un bando a fine inizio anno con l'assunzione di circa 1200-1300 nuovi ispettori esclusivamente per l'Ispettorato nazionale del lavoro. Questo decreto cosa porta? Porta a delle modifiche che riguardano la figura del preposto, la formazione e l'addestramento, la sospensione dell'attività dell'impresa e il lavoro irregolare andando a fissare un tetto del 10% sul numero totale dei dipendenti e dei lavoratori presenti presso un'unità produttiva. Alcuni di questi aggiornamenti sono in vigore immediatamente in fase di pubblicazione del decreto e altri come vedremo successivamente entreranno in vigore invece il 30 giugno 2022. Tra le novità introdotte hanno riportato che gli organismi parentetici che sono quegli organismi che supportano le aziende, hanno l'obbligo di comunicare annualmente sia all'Ispettorato del lavoro che all'INAIL l'elenco delle nuove imprese, l'elenco degli RLS territoriali, sapete che per aziende sotto i 15 dipendenti c'è questa possibilità e a comunicare agli enti anche se sono state rilasciate delle asseverazioni sui modelli organizzativi. Tutto questo perché sono argomenti che permettono all'INAIL e all'Ispettorato nazionale di avere una panoramica più completa e poter intervenire sui controlli. Per quanto riguarda il preposto era utile andare a capire innanzitutto chi è il preposto e che differenza c'è tra il datore di lavoro e il dirigente del preposto. Tante volte soprattutto tra dirigente e preposto viene fatta confusione. Innanzitutto il datore di lavoro chi è? E' quella persona che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda, dell'unità produttiva e ha poteri decisionali e di spesa illimitati. Il dirigente è la figura che supporta il datore di lavoro come il preposto ma qual è la differenza? Il dirigente è quella persona che organizza l'attività lavorativa e vigila su di essa mentre il preposto è quella persona più operativa, è il capoturno, il caporeparto, il capostabilimento. È quella persona che pur avendo che ragione delle competenti professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Quindi passatemi il termine è il carabiniere che è stato incaricato dal datore di lavoro di controllare e vigilare che i lavoratori lavorino rispettando le misure di prevenzione e protezione che sono state definite dal datore di lavoro. Con il decreto 146 cosa comporta il preposto? Il preposto assume un ruolo centrale, assume un ruolo importantissimo e vengono aggiunti degli obblighi non indifferenti in quanto il preposto col nuovo decreto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevate durante la vigilanza se necessario può interrompere temporaneamente l'attività e segnalare direttamente al datore di lavoro o al dirigente nelle non conformità rilevate. Il fatto di poter interrompere temporaneamente l'attività è una novità fondamentale e in vigore da inizio anno. Il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare il preposto. Ci sono stati diversi dibattiti tra gli esperti del settore dove si andava a capire quando effettivamente il preposto è necessario nominarlo oppure no. Il preposto da come riportato nel decreto 81 deve esserci sempre in azienda quindi il datore di lavoro deve individuare sempre il preposto. Può nominarlo ad esempio in un ufficio, in un negozio? Sì, può farlo. Cosa deve mettere in atto però il datore di lavoro? Il datore di lavoro deve poter giustificare e dimostrare il fatto che la presenza di un preposto o meglio l'assenza del preposto non abbia portato all'adozione di comportamenti sbagliati. Nell'aggiornamento in fase di rinnovo dei contratti collettivi è possibile che vengano inseriti degli monumenti quindi degli aumenti in più previsti per la figura del preposto. Essendo questa funzione centrale il processo educativo, no allora, essendo una figura centrale sono stati introdotti anche degli oblighi legati alla formazione del preposto. Che differenza c'è tra formazione, informazione e addestramento. Questo perché anche sulla parte di addestramento sono stati introdotti delle novità non indifferenti. Allora, per quanto riguarda la formazione si intende il processo educativo attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce ai lavoratori conoscenze e proceduri utile all'acquisizione delle competenze che deve svolgere. L'informazione è semplicemente il passaggio di informazioni atte a fornire delle conoscenze. Quindi si vede nell'immediato qual è la differenza tra le due attività e l'addestramento invece è quel complesso delle attività dirette a far apprendere attraverso prove pratiche o prove applicate ai lavoratori e qui poniamo particolare attenzione l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro. Quindi il datore di lavoro deve dimostrare attraverso un registro di aver addestrato e di aver insegnato al lavoratore come eseguire un determinato lavoro. Collegandosi al discorso del preposto, essendo che ha questo ruolo più importante e più centrale, il decreto prevede che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte internamente con modalità in presenza, quindi non è più possibile l'aggiornamento dei preposti in modalità FAD, in modalità videoconferenza e soprattutto devono essere ripetute con cadenza almeno biennale. Quindi è stato introdotto per la prima volta l'obbligo di formazione biennale, di aggiornamento biennale del preposto e comunque ogni qualvolta si è reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi. È stata aggiunta una specifica anche per quanto riguarda il datore di lavoro in quanto anche il datore di lavoro seppur non ricopra il ruolo di RSPP dovrà essere formato in tutti quei temi che riguardano la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. Il fatto di fare una formazione iniziale comporta l'aggiornamento periodico. Per quanto riguarda la novità sulla formazione del preposto e la novità sulla formazione del datore di lavoro a oggi non ci sono indicazioni chiare e specifiche, a differenza dell'addestramento dei lavoratori il quale è obbligatorio e in vigore nell'immediato. Per gli aspetti della formazione del datore di lavoro del preposto è tutto rimandato all'aggiornamento degli accordi Stato-Regione che verranno pubblicati entro il 30 giugno 2022. Quindi per questi due aspetti non ci resta altro che aspettare il 30 giugno. Il 146 ha aggiornato anche l'allegato 1 del decreto 81 che riporta quell'attività che possono comportare l'interdizione diretta dell'attività. Quindi qualora manchi il documento di votazione dei rischi l'ispietrato del lavoro e ATS possono interdire immediatamente l'attività oltre alle sanzioni previste negli articoli 17 e 28 viene aggiunta una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro. Si parla di mancata elaborazione del documento di votazione dei rischi. La presenza di un documento di votazione dei rischi non completo o fatto male per essere chiari non comporta l'interdizione dell'attività. Naturalmente se il documento di valutazione dei rischi non prevede ad esempio un reparto appena installato o appena attivato dall'azienda, gli ispettori possono declinare la definizione di mancata elaborazione del documento per quel reparto sottoponendolo a interdizione. Stesso analogo discorso vale per il piano di emergenza e evacuazione il quale prevede una somma aggiuntiva di sanzione pari a 1.500 euro. Maggiore importanza viene data alla formazione e all'addestramento in quanto oltre a le sanzioni previste dall'articolo 37 e 37 del decreto 81 è prevista un'ulteriore sanzione pari a 300 euro per ciascun lavoratore interessato. Quindi se io ho 10 persone ad esempio con l'aggiornamento scaduto oltre alla sanzione prevista per la mancata formazione io avrò una sanzione pari a 300 per 10 quindi ulteriori 3.000 euro di sanzione. Qualora non fosse stato nominato correttamente il servizio di prevenzione e protezione che prevede la nomina del datore di lavoro dell'RSPP eventuali ASPP merito competente e RLS oltre alle relative sanzioni si aggiunge la somma di 3.000 euro. Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza che è l'equivalente del documento di evaluazione dei rischi per i cantieri si aggiunge la somma di 2.500 euro. Mancata fornitura dei dp contro le credute dall'alto analogo discorso come per l'addestramento è stato previsto l'aggiunta di un 300 euro per ciascun lavoratore interessato mancante di protezioni verso il vuoto oltre alle sanzioni previste si aggiungono i 3.000 euro e poi c'è tutta la parte tutti i punti 8 9 10 11 12 12 bis che riguardano prevalentemente i cantieri ulteriore aggiornamento legato all'anno 2022 riguarda il rischio chimico e cancerogeno dopo diversi colloqui con gli enti di vigilanza soprattutto con ATS per la quale diciamo abbiamo abbiamo dei rapporti continui vi consiglio di adottare nell'immediato delle misure di verifica e controllo del rischio per quanto riguarda il rischio chimico e regolamento l'Ice CLP perché è uno tra i fattori di rischio per la quale nei prossimi anni gli ispettori andranno adottare dei piani diciamo mirati per la vigilanza chimico e cancerogeno per quanto riguarda ad esempio anche il cancerogeno non possiamo che citare i legni duri che sono quelli ad esempio nelle fallegnamerie che possono essere utilizzati quindi facciamo particolare attenzione a questi aspetti mi sono permesso di fare una piccola premessa legata a quando il fornitore quindi quando l'utilizzatore deve richiedere la scheda di sicurezza al fornitore quando le sostanze o le miscele non sono classificate pericolose oppure contengono delle sostanze che rientrano nella candida di liste oppure sono tossici eccetera tutto ciò deve essere naturalmente fornito all'utilizzatore in lingua italiana ci sono dei casi o meglio quando non rientriamo nei casi in cui è prevista l'obbligatorietà di fornitura della scheda di sicurezza il fornitore non ha l'obbligo di trasmettere all'utilizzatore ma comunque l'obbligo di fornire l'informativa che riguarda quella sostanza e anche questa deve essere fornita in italiano cosa cambia nel 2022 nel 2022 diciamo poco nel da gennaio 2023 molto perché il 2022 è considerato l'anno cuscinetto l'anno di adempimento fatto sta che dal primo gennaio 2023 non ci sono più non ci sono più deroghe e le schede di sicurezza devono includere le prescrizioni specifiche relative alle nanoforme piuttosto che il codice identificatore unico di formula UFI che non è altro che un codice alfanumerico di 16 caratteri che identifica in maniera univoca la miscela a livello europeo e la lega alle specifiche informazioni trasmesse tramite la notifica armonizzata l'UFI deve essere specificato anche per le miscele non imballate si introduce il principio che se disponibili i limiti di concentrazione specifici i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità devono essere riportate nelle schede di sicurezza sono state fatte delle indicazioni riguardo a quelle sostanze quelle miscele che possono interferire col sistema endocrino che si possono trovare ad esempio nei prodotti di origine petrolifera tvc materiale plastica eccetera e a seguito dell'aggiornamento del sistema mondiale armonizzato di classificazione e etichettature delle sostanze chimiche le schede di sicurezza con particolare attenzione per i punti 9 proprietà fisico e chimiche e 14 per informazioni sul trasporto devono essere aggiornate in merito all'aggiornamento previsto schema piccolo riassuntivo 1 gennaio 2021 entrato in vigore del regolamento 31 dicembre 2022 termine ultimo del periodo di transizione ciò vuol dire che dal 1 gennaio 2023 tutte le schede di sicurezza dovranno essere realizzate in conformità al formato aggiornato di sensi del regolamento ue numero 878 del 2020 quindi il consiglio che vediamo è iniziare a richiedere le schede di sicurezza aggiornate e dal 1 gennaio 2023 esigere che siano che siano aggiornate nei sensi di questo regolamento l'analogo discorso riguarda anche il rischio cancerogeno per la quale il 9 marzo 2022 è stata pubblicata la nuova direttiva che sostituisce quella del 2004 quindi la direttiva 2022 431 entrerà però in vigore il 5 aprile 2024 quindi abbiamo questi due anni di transizione cos'è cambiato è stato aggiornato il campo di applicazione si è un po' allineato il discorso con il regolamento clp in particolare dei valori limite ad esempio per i valori limite occupazionali nuovi o riveduti per i composti dell'acrilonitrile che è considerato un cancerogeno 1b del benzene e del nickel che sono entrambi i cancerogeni di categoria 1a in più sono previsti degli aggiornamenti dei limiti di esposizione per diverse sostanze chimiche tutto ciò comunque ricordiamo che entrerà in vigore nel 2024 entro il 31 dicembre 2022 si aspettano da parte della commissione degli ulteriori elaborati per orientare e per chiarire un po' l'applicazione del regolamento anche per quanto riguarda i farmaci particolare novità riguarda la sorveglianza sanitaria e la formazione che deve essere svolta per i lavoratori come tutti avremmo sentito da domani entra in vigore il nuovo decreto 24 marzo 2022 in materia di covid ultimo aggiornamento sembrava utile approfondire anche per questo tema cosa è cambiato ci sono stato un po' di novità in particolare al 31 marzo si è decretato la fine dello stato di emergenza il governo però si è diciamo che ha deciso di mantenere fino al 31 dicembre le medesime capacità operative questo perché in base a l'andamento dei casi dei contagi possono muoversi in maniera agile in maniera veloce come in questi due anni in questo modo c'è la possibilità che vengono aggiornati e adottati dei nuovi protocolli in materia di anticontagio ricordiamo che a oggi il protocollo emanato l'anno scorso 2021 è ancora in vigore nell'azienda sono state emanate delle indicazioni specifiche nuove per l'isolamento della quarantena nulla è cambiato per il caso positivo per il quale si rimanda al provvedimento emanato da ads modifiche invece riguardano i contanti stretti modifiche invece riguardano i contanti stretti cosa è cambiato qualora io fossi un contatto stretto è applicato regime dell'autosorveglianza per 10 giorni per tutti a prescindere che uno sia vaccinato oppure non vaccinato l'obbligo di indossare mascherine l'fp2 in caso di uscite normalmente di uscite dal proprio domicilio per 10 giorni l'obbligo invece di effettuare il tampone rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi e dopo 5 giorni se sintomatici sono state sono state inoltre introdotte delle modifiche della gestione per l'ambiente scolastico per le mascherine mascherine fino al 30 aprile 2022 l'obbligo dell'fp2 vige soltanto sui metodi di trasporto aerei navi traghetti treni autobus funivie e analoghi teatri e analoghi nei luoghi di lavoro vige l'obbligo del mantenimento dell'uso delle mascherine ho riportato le mascherine chirurgiche perché le mascherine chirurgiche sono considerate un dp e il covid è stato inserito come agente biologico quindi la misura di protezione sono le mascherine chirurgiche non sono ammesse mascherine di protezione per la collettività sono invariate invece le esclusioni all'uso delle mascherine per bambini sotto i 6 anni persone con patologie di un'altra attività sportiva e condizioni di isolamento per quanto riguarda gli obbligi vaccinali rimane in vigore fino al 31 dicembre per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e fino al 15 giugno per il personale scolastico difesa sicurezza forza dell'ordine sono concesse delle proroghe per i lavoratori maggiormente esposti e per il lavoro agile quindi le misure a oggi valide per queste due tipologie sono state prorogate e invariate fino al 31 giugno 2022 per quanto riguarda la green pass per le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali le rsa eccetera rimangono invariate a quelle attuali e prorogate al 31 dicembre 2022 modifiche invece sono state portate per quanto riguarda il green pass base e rafforzato o super come si voglia chiamare ricordiamo che il green pass base è ottenibile tramite vaccinazione guarigione o test antigenico dal primo al 30 aprile è obbligatorio verificarlo per me servizi di azione concorsi pubblici corsi di formazione colloqui con i detenuti dalle carceri spettacoli aperti al pubblico mezzi di trasporto fino al 30 aprile obbligatorio del settore pubblico privato le misure rimangono invariate e in questo caso sono equiparabili anche diciamo tutti i luoghi di lavoro per quanto riguarda il green pass rafforzato o super green pass è la stessa cosa che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione è obbligatorio dal primo al 30 aprile per i centri sportivi assimilati durante i convegni congressi centri culturali assimilati durante le feste ad esempio cerimonie civili e religiose sale gioco e assimilati sale da ballo spettacoli al chiuso super green pass fino al 31 dicembre per le strutture socio assistenziali e le residenziali e socio sanitarie e è stato abrogato l'obbligo della verifica del green pass rafforzato o super green pass per gli over 50 queste le principali modifiche in merito alla materia covid come ultima indicazione poi lascio la parola al collega Gian Maria Foroni è stata pubblicata al 24 marzo 2022 la nuova normativa legata alla valutazione del rischio e la movimentazione manuale dei carichi cosiddetto metodo NAIOS la nuova direttiva pur non cambiando il numero riporta alla revisione 2022 è abrogato la medesima direttiva scusate la medesima normativa che è entrata in vigore il 9 aprile del 2009 e anche in questo caso nel 2022 dovrà essere previsto un aggiornamento in materia di sollevamento dei carichi spero di avervi riassunto in maniera chiara le principali novità e i principali adempimenti in cui ci dobbiamo abattere in cui ci dobbiamo incimentare nel 2022 per qualsiasi cosa vi ricordo la possibilità di far domande tramite la chat lascio la parola a Gian Maria e ci aggiorniamo dopo intanto grazie mi sentite? credo di sì ti sentiamo Gian Maria sentiamo allora innanzitutto vediamo se mi vedete anche forse ok allora buongiorno innanzitutto grazie Marco per l'ottima esposizione e anche vorrei farti così un complimento sincero perché le diciamo le norme nuove disposizioni sono decisamente importanti e tante quindi che è fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda anche raggrupparle in queste in queste slide quindi riprendendo un po' il discorso di Marco quindi vorrei proporvi ecco così la vostra attenzione visto che ormai i più tanti ecco che stanno seguendo questo webinar credo conoscono SAEF e quindi sanno che SAEF ormai da più di 25 anni si occupa di servizi legati al mondo sicurezza nei luoghi di lavoro alla formazione e anche per quanto riguarda l'ambito legato alla sorveglianza sanitaria tutte e tre materie che comunque anche nell'esposizione di oggi devono essere diciamo aggiornate tenute sotto controllo da parte di qualsiasi tipo di tipologia di azienda per far questo quindi noi siamo a disposizione per chiunque ne faccia richiesta quindi di qualsiasi tipo di informazioni particolari che riguardano non so la sicurezza che riguardano come oggi abbiamo visto le disposizioni legate al covid le disposizioni legate al chimico al cancerogeno insomma tutte quelle materie legate comunque al particolare al decreto legislativo 81 per questo ho voluto riproporre la vostra attenzione qualcuno lo conosce già un nostro servizio che è il servizio che noi chiamiamo scaccia pensieri che è un servizio legato alla come posso dire all'assistenza a 360 gradi per tutte le nostre realtà che ne fanno richiesta per quanto riguarda quindi la parte cogente e obbligatoria del decreto legislativo 81 un servizio che noi mettiamo a disposizione per realtà che possono rientrare nei rischi basso, medio e alto fino a un massimo di 15 addetti un servizio che permette diciamo all'azienda di avere in un'unica diciamo chiamiamola così quota annuale tutto quello che è obbligatorio quindi dalla redazione del documento di valutazione dei rischi per chi necessita anche la redazione del manuale HCCP quindi tutta la formazione obbligatoria quindi la formazione del primo soccorso la formazione dell'antincendio che parlava prima Marco la formazione lavoratori, la formazione RLS quindi anche dentro in questo pacchetto c'è già quotato tutta la parte diciamo della formazione obbligatoria un'assistenza che va oltre a questo perché nello scaccia pensieri noi ci assumiamo direttamente come SAEF il ruolo quindi di RSPP per le nostre aziende e quindi ci assumiamo anche noi una parte di quel rischio ma lo facciamo consapevolmente perché vogliamo comunque assicurare le nostre aziende che sul pezzo ci siamo e come abbiamo visto oggi quindi con tutte queste modifiche che sono state apportate al decreto legislativo 81 capiamo che l'azienda deve essere seguita in maniera veloce ma sul pezzo quindi non possiamo permetterci e anche le aziende non possono più permettersi di non avere diciamo i documenti, la formazione aggiornata perché poi il rischio è come abbiamo visto oggi è quello della sospensione dell'attività e anche la sospensione dell'eventuale lavoratore che non è diciamo aggiornato con la sua formazione quindi questo è un servizio che noi mettiamo a disposizione per chi ne fa richiesta naturalmente seguiamo aziende anche di altre tipologie quindi aziende che hanno un numero maggiore di addetti quindi per queste naturalmente non possiamo farle rientrare in questo servizio legato allo scaccia pensieri ma sarà nostra diciamo occasione fare un sopralluogo presso l'azienda che ce ne fa richiesta e fare diciamo un'offerta che è mirata proprio all'esigenza dell'azienda quindi questo vi volevo dire e volevo ringraziarvi per l'attenzione perché ho visto che comunque siamo in un numero decisamente importante se qualcuno come ha già detto Marco ha delle domande o delle richieste particolari quindi ci può scrivere può scrivere anche sulle nostre mail e nel giro di un giorno massimo verrete ricontattati diciamo dalla nostra area commerciale per darvi tutte le risposte del caso vi ringrazio ancora dell'attenzione e do la parola ancora a Marco per le ultime credo risposte alle domande arrivate grazie ancora eccomi già Maria allora sono arrivata qualche domanda interessanti allora il controllo degli istintori deve essere verbalizzato o registrato? sì, qualsiasi attività svolta dal datore di lavoro ricordiamo che l'obbligo di eseguire tutti gli interventi legati all'81 e a carico del datore di lavoro devono essere dimostrabili quindi deve essere previsto un registro con la formalizzazione e la firma dell'avvenuto controllo è obbligatorio continuare a misurare la temperatura in ambienti di lavoro? sì, nì, nel senso i protocolli in vigore con le misure anticontagio i stati emanati l'anno scorso rimangono a oggi in vigore questi protocolli cosa prevedono? prevedono che il lavoratore non deve presentarsi al lavoro se ha una temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo dall'altra parte il protocollo prevede che il datore di lavoro ha la possibilità di controllare la temperatura dei lavoratori quindi a oggi l'obbligo viene un po' meno è comunque consigliato proseguire con la misurazione della temperatura perché se un lavoratore dovesse manifestare una temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo durante il turno di lavoro la segnalazione si configura come un infortunio durante l'orario di lavoro riguardo i preposti tutti i preposti aziendali quindi devono aggiornare la propria formazione oppure si può aspettare la scadenza del certificato queste indicazioni come anche la formazione obbligatoria per il datore di lavoro sono tutte informazioni che troveremo nell'aggiornamento degli accordi Stato-Regione che verranno pubblicati al 30 giugno 2022 quindi non ci resta altro che aspettare sottolineo il fatto che rimane comunque in vigore nell'immediato l'addestramento per tutti i lavoratori o almeno per i lavoratori i nuovi assunti o qualora abbiano un cambio di mansione in una realtà d'ufficio una figura esterna all'azienda non dipendente il cui incarico è la gestione delle risorse informatiche del gruppo di aziende di cui fa parte anche l'azienda interessata alla nomina può essere nominato come un preposto allora in questo caso dobbiamo andare a verificare alcuni aspetti il decreto 81 parla di esercizio di fatto di potere direttivi ve lo leggo per contestualizzare al meglio la cosa le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui è l'articolo 2,1 che sono le varie definizioni gravano altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti ciò vuol dire che a prescindere dal fatto che una persona sia dipendente o sia un consulente esterno e svolga i ruoli e le attribuzioni previste per le figure carni della sicurezza tra cui anche il preposto o il dirigente ricoprono di fatto quel ruolo quindi non è la nomina non è il corso che va a definire il preposto ma è cosa effettivamente la persona fa nel caso specifico della domanda ci sono delle sentenze che sulla base dell'articolo 299 che vi ho appena letto definiscono il consulente quindi una persona esterna all'organizzazione preposto di fatto perché era dimostrabile era facilmente supportabile la tesi che eseguisse attività di vigilanza diciamo nel rispetto dei lavoratori sulla base delle indicazioni del nuovo decreto essendo che hanno modificato di fatto gli obblighi a carico del preposto il datore di lavoro dovrà andare a aggiornare la nomina con le nuove disposizioni come diceva un attimo fa Gian Maria noi siamo a vostra completa disposizione per qualunque informazioni anche un colloquio conoscitivo sufficiente che ci contattate vi ringrazio ancora per la partecipazione lascio la parola a Simone per il rito di chiusura per qualunque cosa noi siamo qui grazie ancora grazie Marco grazie Gian Maria non vedo altre domande momentaneamente quindi prima di salutarci vi chiedo la cortesia di compilare il questionario di valutazione che vi appare al termine del webinar dal momento in cui ci fornisce delle indicazioni importanti in ottica miglioramento per i prossimi appuntamenti per i prossimi webinar e chiudo mostrandovi ecco i nostri contatti se avete ulteriori domande e ulteriori approfondimenti sull'incontro non evitate a contattarci siamo presenti su tutti i social e la nostra mail sul nostro sito web www.saif.it e niente il nostro incontro è finito e vi auguro una buona giornata grazie a tutti buona giornata a tutti grazie a tutti